Nel centro storico di Lucca le merci si trasportano adesso anche in modo sostenibile con le cargo bike. Il progetto Life Aspire, dopo aver realizzato un sistema che incentiva processi di consegna più sostenibili, adesso per la prima volta ha premiato gli operatori che si sono dimostrati più virtuosi ed ecologici. Quattro operatori hanno ricevuto un riconoscimento simbolico dall'assessore alla mobilità Gabriele Bove. Si sono distinti nel corso del 2020, pur nelle difficili condizioni della pandemia, per il contributo reso alla decarbonizzazione ed elettrificazione del trasporto merci nel centro storico.